Siamo con Alberto Maggi, amministratore delegato di Multitracks, che oggi lancia sul mercato un nuovo prodotto per un nuovo segmento per l'Italia, che è la rimorchistica per la logistica sostenibile. Alberto, di che cosa si tratta? Si tratta di un importante passo per la nostra azienda nell'ottica di portare nel mercato italiano la soluzione di trasporto logistico più sostenibile nel panorama europeo. Lo scorso anno, a gennaio, abbiamo siglato un importante accordo di esclusiva per il mercato nazionale col costruttore olandese Burgers, eccellenza nella costruzione di semirimorchi a doppio piano. Di che cosa si tratta? Si tratta di semirimorchi per come sono costruiti e progettati riescono a trasportare merce in bancali o in ceste, quindi roller, su due piani di carico anziché su un singolo piano. Questa soluzione tecnica permette di arrivare a caricare fino a 55 euro pallet e 84 roller ceste, aumentando i volumi di carico rispetto a un modello tradizionale del 60% e quindi andando a ridurre le emissioni di CO2 del 40%. Multitrux, come società Benefit, ha naturalmente nella sua mission quella di efficientare la logistica in maniera sempre più sostenibile. Per quanto riguarda questo prodotto, è la prima unità che arriva in Italia nella nostra flotta a noleggio. Si tratta di un semirimorchio per trasporto merce secca a due assi fissi e in particolare su questo veicolo abbiamo deciso di andare a equipaggiarlo con le tecnologie più avanzate dal punto di vista di sostenibilità e tecnica. Quindi il veicolo è dotato di un pannello solare che ci permette di alimentare la sponda idraulica senza l'utilizzo del trattore e di un sistema di aerodinamica air flow attiva che va a ridurre nel 5% il consumo carburante ed emissioni di CO2.